Ah ma siete già qui! Benvenuti! Benvenuti nel Museo Multimediale Cinema e Territorio dedicato ai costumi del cinema. E voilà! Salve a tutti, i due microfoni. Sì, sì, intanto prima parliamo un attimo. Allora, bentornati su Radio Web in Volo. Bentornati, salve a tutti, bentornati a tutti quanti. Ecco, prima di iniziare questa puntata vi proponiamo un piccolo trailer per parlarvi del film che andiamo a presentare oggi, ovvero Il Gatto e la Luna. Poi vi presentiamo anche gli ospiti che sono qui con noi, ovvero il regista Roberto Lipolis e Enzo Storico che ha preso parte e recitato in questo film. Via con il trailer. Questo posto mi emoziona sempre. La cosa più bella è che noi siamo qui a festeggiare il nostro anniversario. Signora Grassi. È lei! È lei! Che cosa stai facendo qui? Perché vuoi tormentare ancora tuo marito e i tuoi figli? Perché vuoi aggiungere dolore al dolore? Va via e non farti più vedere da queste parti. Hai capito? Va via! C'è qualcuno? Tu sai che vuoi rimanere qui? E allora chiediti. Tu sei davvero sicura di voler tornare indietro? Che tuo marito dopo tanto tempo sia disposto a tornare? Che tuo marito dopo tanto tempo sia disposto a tornare? Perché tu sei davvero buon. Oh mio Dio! Hai presente il gatto? Sì, il gatto. La notte se ne sta fermo, buono, 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 sul tetto a guardare la luna. eccoci abbiamo appena visto il trailer del film il gatto e la luna che in questo periodo potete vedere anche su prime video abbiamo con noi qui come ospiti in questa puntata speciale l'attore enzo storico il regista roberto lippolis ciao a tutti e grazie per essere con noi buon pomeriggio allora abbiamo voluto fare questa puntata speciale appunto per parlare di questo film il gatto e la luna che è stato prodotto dalla 23 srl che è la produzione cinematografica appunto del film e di cui enzo e e roberto sono i proprietari esatto e dunque ci volete parlare di come è nato di come è nata l'idea di questo film e di come è nata l'idea anche del titolo del film ok allora no no lo sceneggiatore allora il film tra ispirazione da un da uno psicologo e filosofo statunitense eh Raymond Moody che ha studiato diversi casi di premorte eh con un suo libro eh pubblicato in Italia nel settantasette eh la vita oltre la vita eh il film appunto tra ispirazione da questa da questo tipo di studi da questo tipo di fenomeni se vuoi anche esoterici in cui eh si narra una zona di confine quella zona che eh delimita la vita dalla morte o la morte dalla vita e attraverso un fatto di cronaca diciamo così in realtà il nostro tentativo era quello di raccontare proprio chi si trova in questa sorta di zona franca e che quindi eh vive contemporaneamente tutti i due i mondi eh il titolo tra ispirazione dalla poesia il gatto e la luna di Jez è un drammaturgo eh irlandese eh dei primi del novecento tra l'altro vincitore del Nobel della letteratura nel ventitré anche lui un grande studioso esoterico e che eh traeva nel gatto e nella luna due sorti di eh diciamo così eh icone eh esoteriche eh un po' come gli antichi egizi che raccontavano appunto del gatto che in qualche modo accompagnava i faraoni nel mondo dei vivi al mondo dei morti quindi diciamo che il film racconta eh tra ispirazione da fenomeni di premorte di Moody del professor Moody e il titolo eh me l'ha ispirato diciamo così questo drammaturgo irlandese in effetti è un tema molto delicato e anche molto originale io ho visto il film venerdì scorso venerdì sera e per la prima volta e devo dire che è un film eh proprio molto molto toccato cioè per me poiché sono una persona estremamente sensibile eh diciamo che tocca l'anima profondamente ehm quindi insomma è un messaggio molto molto profondo quello che volete dare attraverso questo film anche attraverso tutti i flashback che ci sono e il prima e il dopo insomma è una tecnica molto molto originale insomma era abbastanza complicato eh era abbastanza complicato quello di eh rappresentare cinema cinematograficamente quello che è eh questo tipo di percorso quindi eh ehm non è un film tra virgolette facile come interpretazione ma se uno è attento riesce a accogliere eh tutti questi tipologi di fattori eh che abbiamo detto insomma tu sei sceneggiatore e regista del film che è stato girato interamente nelle Marche ad Osimo e in altre regioni delle Marche e gli altri invece vogliamo ricordare gli altri componenti del cast allora gli altri sono certo oltre sono Maria Grazia Cucinotta che è la protagonista e che nel film è praticamente mia moglie non può essere mia moglie nel film finzione scenica assolutamente finzione scenica fantastica poi c'è ehm Enzo Carinei grande Enzo Carinei che con i suoi 96 anni ancora eh è in teatro fantastico e che fa la parte del suo vecchio professore di liceo poi Enrico Loverso che è un suo vecchio compagno di liceo eh Massimiliano Pazzaglia eh che è uno degli imprenditori coinvolto nella parte thriller del film eh poi c'è Antonella Salvucci che fa parte di Asorella del film eh Lucia e Lucia Batassa eh che abbiamo visto anche nel trailer sì esatto Lucia Batassa bravissima che fa la parte di mia madre nel film e poi che altro c'è Linda Battista eh la Salvucci l'ho detto eh Calabrese Roberto Galabrese ecco questi sono diciamo gli attori principali sì poi c'è anche Gianni Franco che fa una una parte anche Gianni Franco l'agente un agente di moda pubblicitaria che lo salutiamo abbiamo già intervistato eh precedentemente qui su Radio Web in volo abbiamo intervistato anche Enzo quindi nella playlist di vita d'attore sul nostro canale YouTube potete vedere le interviste sia ad Enzo che a Gianni e volevo chiedere appunto come è stato lavorare con il cast nella una giornata diciamo tipica del del set di questo film come è stato rapportarsi con i colleghi e insomma lavorare con loro eh eh con i colleghi eh si lavora sempre bene bene c'è sempre una eh quando si crea una buona armonia con tutta quanta la truff eh con le maestranze eh ricordiamo che la fotografia è del grande maestro Nino Cereste eh con con il suo staff gente molto affiatata eh grandi professionisti e quindi ci siamo trovati benissimo con loro e l'armonia che che può regnare appunto se c'è alla base questa armonia anche per i colleghi lavora benissimo poi ecco non so il regista magari eh usava spesso la frusta ci ci gustava no devo dire che il clima è stato ottimo penso Roberto no assolutamente sì assolutamente sì eh certo poi gli attori si dividevano tra gli attori che interpretavano ruoli vivi che contro attori che rappresentavano ruoli da defunti eh però scherzi a parte è stato veramente un piacere lavorare con tutti quanti giustamente la cosa che ha detto molto importante Enzo è creare sul set un clima eh in cui si lavora seriamente ma nello stesso tempo ci si diverte eh perché avere un gruppo sereno significa lavorare bene altrimenti nervosismi o altre tipologie di cose complicano la qualità della riuscita del film secondo me una citazione anche delle musiche eh di Marco Uerba che è un ritornato straordinario e molto aderenti al tipo di storia eh che volevamo raccontare e anche con il contributo del di Marco Santini eh che è marchigiano comunque ecco volevo sottolineare anche l'importanza delle musiche sono fondamentali per creare l'atmosfera eh insomma sono importantissime le musiche e no il film l'avete girato tra il 2017 e il 2018 no 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 2018 e una seconda parte poi ci siamo tutti fermare per vari problemi di impegni di eh di alcuni attori e abbiamo terminato nel 2019 ok e dunque adesso si può vedere su Prime e invece al cinema è uscito è uscito l'estate scorsa nel in alcune sale è già uscito appunto alla fine dell'estate scorsa ah ok e invece oltre al film e voi due insieme avete dato vita al progetto eh dei musei multimediali cinema e territorio di di Ascoli vogliamo parlarne visto che eh noi di Radio Web in Volo siamo uno special partner di questo progetto e vi ringraziamo molto? Sì praticamente abbiamo creato questi musei multimediali interamente multimediali eh nei quali andiamo a legare il cinema col territorio vado a dire ehm vediamo quale può essere un'eccellenza del territorio come per esempio nel caso di Ascoli noi sappiamo che è una zona la quale si producono merletti, pizzi, ricami, il tombolo è famoso eh da Uffida nell'ascolano la stessa Ascoli e quindi tutti sono tutte cose queste che riportano ai costumi nel cinema i costumi un importante linguaggio no nel eh nel film nel in una pellicola no? Eh già da da alcuni elementi che noi andiamo a vedere dei costumi capiamo di quale film stiamo parlando di quale epoca eh di quale stato sociale qual è la situazione quindi i costumi sono molto molto importanti nel nel film e allora abbiamo preso appunto presi dei film nei quali sono rappresentati in maniera eh particolare eh i costumi logicamente andando a riprendere i costumi nei quali ci sono pizzi merletti ricami siamo andati su eh film non contemporanei che parlano cioè la storia non è contemporanea ma sono eh film in costume eh qualche esempio c'è Spinellaro Elizabeth eh Casanova e quindi siamo andati a legare tutti questi film facendo cosa poi partendo facendo un percorso partendo dal bozzetto e qui abbiamo avuto la collaborazione di una prestigiosa sartoria conosciuta in tutto il mondo che ha partecipato alla vincita di ben 16 Oscar e la sartoria Tirelli quindi siamo partiti dai bozzetti bozzetti di Piero Tosi della Vescuci e di altri eh quindi il disegno che poi piano 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 passa alla alla sartoria dove vi cominciano si vedono abbiamo realizzato noi dei filmati eh si vedono eh le sarte eh le persone maestranze di sartoria che cuciono che preparano i vestiti poi si passa dove si va eh verso il set dove ci sono i camerini dove gli attori provano i costumi cominciano a prendere confidenza no con i costumi a entrare nel personaggio mano mano poi si arriva sul set e quindi eh nella parte finale si arriva alla sala cinema dove vengono proiettati questi film di cui vi dicevo prima questo diciamo è per quello che riguarda Ascoli no percorso il museo di Ascoli si chiama i costumi nel cinema ok oltre a quello invece ce ne sono altri ce n'è un altro in gestazione e in preparazione eh riguarderà l'arte l'arte nel cinema eh la sede adesso è in via di definizione però sempre lì nelle marche ok e dunque tu sei cittadino onorario di Osimo giusto? Sì esatto ecco infatti ci vuoi raccontare un po' la tua il tuo legame con con le marche e come mai avete scelto appunto di fare di ambientare il film e fare questo progetto proprio nelle marche? eh sì la colpa no la colpa no scherzo di aver trascinato Roberto in un'avventura marchigiana no eh sono io perché eh eh io ho studiato da ragazzo lì a Osimo eh siccome non non ero molto bravo a scuola mio padre ha pensato bene di mandarmi in collegio eh e allora non ero bravo non mandava di studiare insomma il primo il primo superiore così è stato bocciato a Roma non che a Roma non ci fossero le scuole ovviamente però mi ha mandato in un collegio lì ad Osimo c'era un collegio eh dei figli di appartenenti all'arma dei carabinieri mio padre era stato un ufficiale di carabinieri e quindi mi ha mandato lì in collegio per capire un po' com'era la la disciplina e lo studio e e poi sono rimasto lì eh ho fatto tutte le scuole superiori di eh ad Osimo quindi ecco lì il legame con la città che ho mantenuto nel tempo perché ho tantissimi amici così mali eh poi ho continuato anche all'università sono andato a Urbino insomma c'è stato un forte legame con le marche e quando si è trattato di scegliere un posto che potesse andare bene per per la nostra storia ho fatto conoscere le marche e le location a Roberto e ci siamo trovati d'accordo a a rimanere lì in zona martigiana anche perché per esempio ci sono delle scene che sono state girate le spiagge del conere che sono stupende non l'umano posti fantastici bellissimo e invece la vostra collaborazione in generale come è nata come vi siete conosciuti e come avete scelto di collaborare? eh non lo so ci siamo intruppati un giorno no 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 ci conosciamo da oltre vent'anni e collaboriamo e lavoriamo insieme da oltre vent'anni e una cosa devo dire che c'è un'armonia e una sintonia a 360 gradi di oltre vent'anni e non abbiamo mai ripeto mai discusso neanche in un solo secondo per qualcosa c'è un tale rispetto e una tale amicizia rispetto professionale e rispetto personale come come uomo insomma e quindi c'è c'è una grandissima sintonia e sinergia tra noi beh devo dire che è una grandissima fortuna non è non è scontato assolutamente noi ci siamo incontrati grazie alla scuola dove insegnavo alla scuola di Garinelli praticamente eravamo a un saggio c'era un saggio finale e Roberto è venuto insieme a delle persone a vedere questo saggio lì ci siamo conosciuti ci siamo si può dire annusati ci siamo praticamente abbiamo visto che poteva nascere una amicizia da lì poi è partito tutto il nostro lavoro insieme abbiamo avuto anche oltre vent'anni fa delle scuole di recitazione insieme sono nati i progetti cinematografici teatrali e quant'altro ma sempre in perfetta armonia questa è una cosa bellissima perché comunque non succede è molto raro che succeda è molto una fortuna veramente meravigliosa quindi insomma complimenti e insomma speriamo che facciate tante altre cose belle insieme e speriamo noi di Radio Web in volo di venire presto a vedere il museo di Ascoli Piceno vero Paolo? si intanto stavo no intanto scusate se stavo guardando questa cosa mi è imbattuto in un meme poco fa parlavate delle macchie sul fatto che questa regione è stata definita la seconda regione più bella del mondo secondo l'Only Planet quindi tra l'altro stavo cercando di capire quale fosse la prima però comunque è molto interessante questa cosa lo volevo aggiungere così come un po' still no no ma è senz'altro è una bellissima regione le marche sono una regione stupenda perché poi da andare a vedere c'è tutto c'è il mare c'è la montagna c'è la campagna le colline quindi ha delle location fantastiche si mangia pure bene che la cosa non guasta esatto che non fa male e non guasta no no assolutamente invece i vostri progetti futuri quali sono? se ne avete è come se non ce l'abbiamo vai Roberto vai regista allora in ordine alfabetico vado eh allora il prossimo progetto che dovremmo iniziare a preparare è dimenticare Giselle è un film che probabilmente gireremo in Puglia ehm è tratta una tematica molto importante che è quella della prevenzione del tumore al seno quindi è una storia molto particolare eh anche questa ha dei toni anche un po' eh se vuoi surrealistici ma che cerca di raccontare eh esattamente come si trova una persona quando è investita da questa tipologia di eh malattia quindi è molto intimista ehm è molto particolare anche questo io mi mi permetto di aggiungere una cosa che c'è proprio prego è proprio come posso dire viene a pennello perché praticamente ehm il 5 maggio inizia in tutte e in molte parti d'Italia inizierà la Race for the Cure che è la lotta e la corsa che si fa eh ogni anno contro il cancro al seno e quindi la madrina sarà Rosanna Banfi insieme a Maria Grazia Crucinotta dopo due anni si farà in presenza perché appunto per la pandemia non per due anni non c'è stata e quindi mi raccomando iscrivetevi tutti e donate per la prevenzione al cancro al seno e il 2 maggio intervisteremo Rosanna Banfi che ci parlerà appunto di questa iniziativa eh considera considera che eh noi per questo film abbiamo il patrocinio della LILT della Lega Italiana Lotta Tumori che eh il cui presidente è il professor Schittulli che è uno dei massimi eh eh chirurghi conosciuti in tutto il mondo proprio per il tumore al seno ehm è piaciuta moltissimo questa storia perché eh è vero che è drammatica eh però poi ehm il finale che chiaramente non possiamo del quale non possiamo parlare eh dà eh tanta fiducia e speranza eh per questo tipo di locca che si può combattere e alle volte si riesce a vincere grazie a Dio bene infatti insomma complimenti e teneteci aggiornati invece oltre a questo ce n'erano altri perché Enzo vai erano altri no allora eh questo qui Dimenticare Giselle perfetto abbiamo anche un altro film adesso si tratterà di vedere ma quasi sicuramente è più in direttura addirittura d'arrivo Dimenticare Giselle eh ce n'è un altro molto bello interessante è una dove c'è una parte contemporanea e una parte di rievocazione storica eh le melodie del Bosco dei Paggi si chiama eh nel quale si parla anche di una cosa particolare che era il campo di concentramento di Terezin è una storia che pochi conoscono eh era un campo eh della seconda guerra mondiale Terezin vicino Praga nel quale venivano internati tutti quanti gli artisti i nazisti internavano lì eh gli artisti con la scusa di farli eh recitare suonare eh farli scrivere eh portare avanti la loro arte ma era praticamente un un sistema per farli piano piano scomparire anche lì dal campo di concentramento e quindi ci sarà una una storia attuale con eh un percorso all'indietro che ci proietterà in questi campi di concentramento una storia molto bella eh un campo musicale questa volta molto bello complimenti anche qui mi viene da dire una cosa sempre collegata proprio ieri eh che la la giornata della liberazione il 25 aprile è uscito nelle sale il film Bocche inutili che di cui la protagonista è Margot Ciccavoni un'attrice che abbiamo intervistato tempo fa e parla appunto del campo di concentramento dal punto di vista delle donne e in tutti i cinema fino a venerdì e quindi insomma noi vi facciamo tanti in bocca al lupo e se volete presentare insomma tutti gli altri vostri progetti noi siamo qua a disposizione complimenti molto volentieri appena sarà pronto o meglio appena sarà in allestimento quindi abbiamo definito la sede dell'altro museo quello l'arte nel cinema eh magari vi vi rendiamo partecipe di questo progetto certo certo perché appunto assolutamente noi siamo Radio Web in Volo eh special partner di di questo progetto e in tutte le puntate di filmitici e di vita d'attore nella sigla c'è insieme alla sigla c'è anche il trailer eh dei musei multimediali del cinema e del territorio e io aggiungo solo che mh inseriamo eh i link per vedere super in video il gatto e la luna sotto in descrizione lo troverete alla fine di questa puntata lo troverete anche sopra su facebook e lo inserremo anche su twitch amici di instagram che vedete questa puntata indifferita sapete dove trovare appunto questi link o comunque trovate il gatto della luna su prime video eh io intanto avevo indagato che eh appunto nel 2020 le marche erano state ritenute eh la seconda regione più bella dopo la via della seta e prima nella regione di Toku in Giappone volevo aggiungere questa cosa qua e bene noi adesso siamo in diretta appunto su facebook youtube e twitch metteremo la puntata appunto anche su instagram e stiamo anche su telegram tiktok e mi fa scordata qualcosa e vabbè comunque tutti i nostri canali li potete trovare e sotto sotto ogni video in eurovisione sì sotto ogni video sul canale youtube e mi raccomando iscrivetevi seguiteci su tutti i nostri canali e noi ci vediamo domani per altre altre live esatto domani ci troviamo alle 18.45 per in volo visione vedrete domani appunto la grafica di cosa parleremo sui nostri profili social escono sempre le nostre grafiche prom su youtube facebook e instagram grazie grazie a voi alla prossima speriamo di vederci presto ai buoni sociali ciao come sempre grazie a voi che avete seguito buon prossimo su radio del bimbole quando vi vedete la sotto mi piace e iscrivetevi al prossimo video arrivederci grazie ciao ciao